Allora io ho interrogato chi era la formazione, se conoscevo, chi era antifascista, la prima formazione parte dei partigiani, era proprio l'inizio quello, no? In effetti a casa mia io ero venuto un paio di volte Piero Dal Pozzo a reclutare e cercare di creare questi gruppi di antifascisti. E chi eri? Allora è successo che mi ha appestato abbastanza seta e la mattina a Drio in cacciapaga l'architetto Rossi, Vittorio Rossi, che era andato in cerca di me e gli ho detto cosa fai? Voi in cerca del buonino? Ah si, gli ho detto, io ero a brinca, io ero a portare in giro, ho detto che ovviamente ero qua e poi ero a cacciapaga e mi ho fatto tutto che notte era il giorno Drio e la seconda notte, e stai sotto ufficiale che mi era portato in caserma e mi aveva fatto scampare, non mi sapevo che era stato, e quindi sono scampato e ho fatto una fuga, dove sei andato? A Ormelle, a Ormè, conoscete qualcuno? C'è tutti i parenti? No, io ero in zona. Ieri ero in un gruppo dei Tosati che erano antifascisti, quando erano i fascisti, quando che era, si, ero io un benetasso e tutte le cose, roba che avevamo 14-15 anni e tutto più. E qua era una bella squadra, una bella squadretta ieri, no? eh. E era un mio che era Vittorio Rossi, che era... Sto architetto è sempre vivo ovviamente? Sì, è ottimo, è anche uno di... Famoso? Sì. Ma sei parente di quello del Vigno era? Sì. Del Mario Rossi, quello che era potevi? Eh, del Marietto Rossi e del Fradeato. Mario, quello che si aveva ingrandito adesso, alle 4-90 anni? Sì, quello che era il suo fratello. Suo fratello. Sì, suo papà, ed era Mario, si mandava Mario verso il suo papà. Quello che aveva... C'era il Vigno, che cosa stai lì? La Porta del 140. Eh, la Porta del 140, la Porta del San Tommaso. Io che era Zanella, Zanella, mi sei vincitato, no? Eh, eh, si ricorda. E' il campo che non ce ne avevamo, sì. Zanella, le santo, noi non le sanno. Adesso lo si, è che adesso il capo... Passiamo molto bene. Eh? Comparciamo più un po'. Buono, 10 anni, se c'è. Io, il Vittorio... Ma come aveva ritrovato? Con la fine, cara, le compagnie. Eh, per che motivo era lì su quei fascisti? Eh, perché... Forse anche perché avevamo i genitori che pensavano in questa maniera, no? Eh. Quindi, le famiglie... E poi ne avevamo la libertà... Vediamo già il senso della libertà. Volevamo essere liberi, capito? Ma era piuttosto fatigante a farmi perché quando che tutti quanti... Eh, pur neanche infatti... Non sentivo il dovere di partecipare al sabo fascista, per esempio, no? Quando il sabo fascista torta ad andare... O come Balila, o come vanguardista, torta ad andare ad ogni sabo... Neanche invece cercavamo sempre di fedonare. Non scampavamo, non daimo. E' una ribellione che sentivamo dentro la Niati, forse neanche a giustificare nel senso... Eh, esprimevamo questi sentimenti che... Che poi era anche... Che era anche... Dopo un certo punto scoperti da parte dei fascisti. Infatti il federale... Un giorno... Mi ricordo che l'occasione... Musulini... E io... Il federale Gatti... Si chiamava Gatti... Che stavo qua insieme con Musulini... E' il federale quattro di io... E' un po' a convocare... E' un po' a con paternalismo... E' un po' a intero qua... Ancora i primi anni della guerra... E' un po' a con ieri... Si... Qua è stato nel 42... 43... E me la cia convoca... E' un po' a con ieri... Mi ha fatto la nata... Si... Me ne ha messo la canassiera in guardina... Perchè ne sono Musulini... Che mi ha fatto... A Treviso... Ah no... Qui è stato nel 42... Prima della diversione della guerra... Dopo... E' un po' a con ieri... Che si ha incontrato con il federale... E' un po' a con ieri... E' un po' a con ieri... E' un po' a Treviso... E' otro po' all'altro... Il giorno in che facevi? Ag Hessen... No... C'è molto gelato... Io invece ero in questo foglio... Stam série... Binge una testina... Qui non mi ricordo... La tipografia... Che era il tipografo? E qui era il tipografo... Direi che lo invente ai votanti... Qui tramava la cangia! E poi... È ma che io erano... C'era... In battaglia... Ci-le collega fuori... che invece ero uno solo che beccava e ti ciappai anche i pacchi e noi andavamo cagnati armati di manganello e mi ricordo che abbiamo fatto una carrega a sdraio al conte Coiti era una bella carrega a sdraio e eravamo tutti come manganelli e eravamo tutti così grossi che finivano finito così e noi andavamo cagnati con manganello una parola del genere ma siccome eravamo anche tanto sloveni forse eravamo cattolerei dai fascisti però ieri a botte si stia beccava fuori avevamo il problema la sera andavamo fuori e andavamo fuori in compagnia però succedeva i 7-8 che potremmo cadere uno che ha addostato e poi restavano sempre gli ultimi due e gli ultimi due dovevano tirare fuori le scorgitare la faccenda del potere del mercato l'8 settembre quando è successo che abbiamo detto basta fare la guerra eravamo andati per cui ho patreviso ma che durò pochi giorni non avevamo bisogno di tornare a 9 euro e ora siamo andati a scampare gli altri eravamo pacche eravamo pacche su serio e niente però non avevamo mai abusare del nostro potere quando avevamo in manca non avevamo bisogno di tornare a confronto tu eravamo per culo ma basta no finì la guerra finì la guerra cosa è successo? io ho fatto il partigiano tra l'altro il partigiano che aveva fatto è sconto no? e se che sconto che altro tra l'altro non si sa siamo trovati dopo a fine guerra ci siamo trovati come un bambamento è un mega diviso dopo questo è l'ultimo bambamento gli altri si perché l'Italia è andato è andato è andato e io il partigiano dove sono andato? adesso è andato è andato